Sono Carlo Favaretto, frequento l'Istituto Massimo Alverini. La videoricetta sui paccheri di Gragnano allo scoglio, che vi presenterò, rientra nel progetto FSE della Regione Veneto del 2011, intitolato Lo chef del territorio tra tradizione e innovazione. Ingredienti per 10 persone Paccheri di Gragnano, grammi mille Vongole, grammi 500 Cozze, grammi 400 Olio di semi, grammi 200 Scampi, numero 10 Vino bianco, grammi 70 Olio extravergine di oliva, grammi 40 Semi di sesamo, grammi 35 Prezzemolo tritato, grammi 30 Bottarga di mugine, grammi 20 Spaghetti, numero 10 Sale fino e fiori edili quanto basta Pulire le cozze e le vongole Cuocere separatamente in parella con il vino bianco e un filo d'olio per 5 minuti Slusciare gli scampi, levare il filo nero della sabbia, passare il lato superiore nei semi di sesamo, cuocere in parella anti-tedente, Prendete con un filo d'olio caldo per qualche minuto Scallare l'olio di semi a 190 gradi Friggere gli spaghetti per 1 o 2 minuti Scolare Tritare la cipolla molto finemente e soffriggere Aggiungere le cozze e le vongole e cuocere per qualche minuto Cuocere i paccheri per 15 minuti circa Scolarli e saltare Affettare finemente la bottarga Impiattare e decorare con un fiore a edule Gli scampi, uno spaghetto fritto e la bottarga Gli scampi, uno spaghetto fritto e l'olio caldo per qualche minuto Gli scampi, uno spaghetto fritto e l'olio caldo per qualche minuto Gli scampi, uno spaghetto fritto e l'olio caldo per qualche minuto Tutti sale